Sono Giuseppe Mazzoli, amministratore unico e uno dei soci fondatori di Trecime Technology, gruppo MTT, perché nel corso del 2021, che è stato il migliore anno della storia dell'economia mondiale, come tutti sappiamo, noi abbiamo avuto l'onore e l'avventura di acquisire parte del capitale di un'azienda che si chiama Nuove Tecnologie a Udine, per cui da oggi, da allora, noi abbiamo tre sedi sul territorio nazionale, che sono Bologna, Udine e Trento, e col quale formiamo questo gruppo di aziende nell'ottica di lavorare in informatica sulla parte, quella che io chiamo meno nobile dell'informatico, ovvero sull'infrastruttura e la gestione dei dati. Prima di entrare nel dettaglio di quello che facciamo, faccio un inciso che è utile anche per presentare l'azienda, se andate sul sito di Trecime Technology, www.trecime.com, con il numero, voi vedete che non si parla di tecnologia, a differenza di tutti i nostri competitor che parlano di tecnologia ed elencano quantità di aziende gestite, di siti gestiti, no, niente, noi parliamo di umanità e di valori. Il nostro slogan è ci ricordiamo le persone, non il business. Questo perché crediamo in un'economia che mette l'uomo al centro, crediamo in un'economia che fa crescere il bene di tutti e non la ricchezza di pochi, ma soprattutto crediamo in una visione dell'economia e dell'informatica che trasforma il prodotto in un servizio e per lavorare bene con un servizio ho bisogno di relazionarmi con delle persone, per cui se io ho delle persone davanti, e questo nell'economia e nell'informatica è e sarà sempre più importante, io riesco a ricordarmi del fatto che ho lavorato con la tal persona e non di quanti soldi ho fatto con quella persona. Detto ciò, che è importante perché questo significa anche avere dei valori al centro, avere un rapporto con il cliente che è una relazione umana, per cui il cliente anche quando ha rapporto con me non parla con un call center, ma parla con delle persone, e questo è vincente secondo il nostro piccolo punto di vista, noi in questa ottica andiamo a fare che cosa dell'informatica? Come ho detto prima, la parte meno nobile, ovvero la parte dell'infrastruttura. Allora, l'infrastruttura è un male necessario, ovvero spesso e volentieri un imprenditore, un'azienda nostro cliente, si accorge dell'infrastruttura quando le cose non funzionano. Non quando funzionano, perché si dà sempre per scontato che funzioni. E allora è un tema difficile tante volte, tante volte è nelle mani dei cosiddetti CIO, quindi i responsabili dei sistemi informativi, i quali oggi però sono dei ministri senza portafoglio, perché normalmente tutta la gestione del denaro, della pecunia, è nelle mani del CFO, quindi del direttore finanziario economico, amministrativo o dell'amministratore delegato, barra direttore generale. A tal proposito, io cosa ho fatto? Ho dovuto fare un qualcosa che oggi regaliamo a tutti gli imprenditori che entrano in rapporto, in relazione con la nostra azienda. Mi sono lanciato nello scrivere un piccolo libro, un piccolo testo, che ho chiamato l'informatica per imprenditori, la visione olistica della gestione dei dati. Questo libro, che è in vendita su Amazon, sia nel formato cartaceo, quindi con un print on demand, sia nel formato Kindle, vuole aiutare gli imprenditori, perché io non ho niente da insegnare a nessuno, per carità, e quindi non mi atteggio come il sapientone di turno, ma aiutare gli imprenditori nel capire quello che sta sotto uno strumento che fa fare business. Tipicamente l'imprenditore ne sa di IRP, ne sa di CRM, cioè di tutti i software che mandano avanti la sua azienda, non ne sa o ne sa meno di infrastruttura, di che cos'è la business continuity e ne sa ancora meno di sicurezza informatica, ovvero di quello che riguarda la protezione dei dati. Io sono un umile ragioniere, prima di essermi laureato in economia e commercio, sono arrivato a teorizzare in questo testo che bisognerebbe scrivere una posta dell'attivo dello Stato patrimoniale dove io metto il valore dei miei dati, perché oggi senza dati le aziende non lavorano. E il petrolio del domani? E senza la protezione dei dati, cioè se non ci mettiamo in testa che senza i dati non lavoriamo e che dobbiamo proteggerli, rischiamo di fare flop. Io ho visto aziende rischiare di fallire perché avevano perso i propri dati. E questo è determinante oggi. Tante volte bisogna capire che per proteggere i propri dati bisogna spendere dei soldi. Qualcosina o qualcosina, dipende dalle dimensioni dell'azienda e dai rischi che uno corre. Perché ci sono aziende chiaramente che hanno dati di natura diversa, che sono più appetibili e aziende che hanno dati di natura meno appetibile. Ma allo stesso tempo, in ogni caso, per tutte le aziende i dati sono il patrimonio. Detto ciò, in una visione olistica della gestione dei dati, mi sono permesso di scrivere 14 punti che secondo me, prima o poi, quindi non è detto che tutti debbano fare in un'unica soluzione i passi necessari, può essere un approccio graduale, ma devono essere tutti tenuti in considerazione perché il punto di arrivo è questo. Fare tutti questi 14 punti per arrivare a gestire i dati. Oggi sono 14. Quando feci la prima intervista a una rivista europea che mi chiese cosa ne pensavo di questo due anni fa, i punti erano 8. Per dire che da questo punto di vista purtroppo bisogna continuamente rimettersi in discussione e ricominciare. Cioè, la gestione dei dati ha un approccio circolare. Oggi quello che è vero non lo sarà tra sei mesi, non lo sarà tra 12 mesi. Ergo, bisogna mettersi in testa che su questo dovremmo sempre lavorare. E per quanto riguarda la portazione dei dati, noi partiamo, io l'ho scritto nel mio piccolo testo, che trovate sotto Giuseppe Mazzoli in Amazon, ho scritto, ho fatto un paragone sportivo. Il doping è sempre più avanti rispetto all'antidoping. Ergo, il pirata informatico è sempre più avanti rispetto a chi sviluppa uno strumento di protezione dall'attacco. Per questo dobbiamo sempre cercare di rimetterci in discussione. Detto ciò, arrivando a cosa fa Trecime, cosa aiuta Trecime a fare e a portare avanti aziende, organizzazioni pubbliche, sanitarie, non sanitarie, nel tema della visione olistica della gestione del dato. Ci sono punti chiave che noi dobbiamo considerare e sui quali dobbiamo aiutare le imprese ad andare avanti. Il primo punto sicuramente è la business continuity, o continuità operativa in italiano. Il Sole 24 ore, in un articolo del 2018, se non ricordo male, diceva che la business continuity è uno dei punti del test di maturità digitale di un'azienda, ovvero il fatto che i miei sistemi funzionano 24 per 7 per 365. 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. È un elemento chiave, per alcuni non dirò niente di nuovo, per tanti così non è. Cosa vuol dire? Che dobbiamo cautelarci dalla rottura di qualcosa, dobbiamo cautelarci da un ammanco di corrente, dobbiamo cautelarsi da tante cose che possono occorrere e che non inficiano solo la continuità del lavoro, ma possono anche rischiare di farci perdere dei dati. E questo è il primo punto sicuramente su quale aiutiamo le aziende a lavorare. La business continuity può essere ottenuta in tanti modi, può essere ottenuta in campus, noi diciamo se un'azienda ha la possibilità di avere almeno due building sui quali afferire a due quadri elettrici diversi. Per aziende che sono geograficamente distribuite sul territorio, questo può avvenire anche ad alcuni chilometri di distanza, oppure a livello metropolitano a distanze decisamente diverse. La business continuity, quando viene realizzata e viene ottenuta, molti pensano di essere a posto. Il secondo punto fondamentale di un approccio olistico alla gestione dei dati è il disaster recovery. Il disaster recovery non è solo un obbligo del GDPR e di tutte quelle cose che l'Unione Europea ci ha, tra virgolette, imposto. Secondo me è buon senso dell'attività imprenditoriale. Oggi non possiamo pensare di non avere un piano e quindi un servizio di disaster recovery, che possiamo avere autogestito o possiamo acquistare come servizio all'esterno. il buon senso ce lo dice perché? Perché è sempre quello che ci siamo detti, senza dati chiudiamo e falliamo. Quindi dobbiamo avere qualcosa che ci cautela da questa perdita di dati. Il disaster recovery è un qualcosa che va da 0 a 100, ovvero minimo di legge, tra virgolette minimo del buon senso, avere almeno una copia di tutto da un'altra parte, fuori dall'azienda. massimo è avere un'infrastruttura già pronta per la ripartenza. Quando facciamo progetti di questo genere, e magari capita che sono io ad andare a parlarne con un imprenditore o un mio collega, il mio direttore commerciale, insomma ormai cominciamo anche noi ad avere una struttura abbastanza complessa ed articolata, facciamo sempre due domande al nostro referente che sta dall'altra parte e per questo spesso e volentieri i responsabili sistemi informativi non ha le risposte. Ma è il direttore generale o l'amministratore delegato che può rispondere a queste due domande che sono quanto tempo puoi stare fermo? Quanto sei disposto negli anni a spendere per raggiungere il tuo obiettivo di ripartenza? Perché quando facciamo la prima domanda tutti ci dicono il meno possibile, è logico, tutti abbiamo bisogno dell'infrastruttura per lavorare. Bene, allora se tu devi stare fermo mezz'ora non è pensabile avere una copia dei dati fuori che in qualche modo devo ricaricare su dei server per ripartire, perché ci vogliono dei giorni per ripartire in questi casi. Devo avere già un'infrastruttura pronta per la ripartenza. Tra lo 0 e il 100 ci sono tante sfumature di grigio ovviamente che dipendono dalla mia dislocazione, dipende se io voglio questo servizio tenermelo in casa piuttosto che affittarlo all'esterno e via andare. Ecco, molti pensano, e qui invece perdonatemi con supponenza e poca profondità di conoscenza, che il cloud sia la soluzione. Vediamo che il governo nazionale sta dicendo che le organizzazioni governative municipali, eccetera, devono andare in cloud. Allora io mi sono permesso di scrivere che il cloud non è la soluzione. Il cloud è un tassello di questa visione che può semplificare o complicare la vita. Dipende da quali sono gli obiettivi, dipende da quanti sono queste risorse, perché se io affitto delle risorse in cloud non è detto che io abbia business continuity, disaster recovery e via andare. Cioè devo sempre accertarmene. E può essere che io decida di avere una mia infrastruttura principale a casa e un'infrastruttura di disaster recovery in cloud o viceversa. Abbiamo organizzazioni anche banche che lavorano con noi, che hanno un'infrastruttura dove la continuità operativa principale è in cloud e hanno un disaster recovery a casa loro, magari nel vecchio data center che continuano a tenere vivo. Ecco che questi aspetti fanno sì che non esista un prodotto preconfezionato. Sono tutti progetti custom che dobbiamo di volta in volta andare a confezionare. Terzo elemento chiave di tutto questo, perché abbiamo parlato di business continuity, disaster recovery, di cloud in generale, che abbiamo detto però non è un punto di forza, è un tassello, è la sicurezza informatica, la security. La sicurezza informatica oggi è vincente. Vincente nel senso che io mi sono permesso di scrivere che la reputation, questo le faccio una questione di macroeconomia, diventerà uno dei fattori chiave per fare business nei prossimi anni. La reputation deriva dal fatto che io ho una parola sola, e questo è etica del lavoro, quindi ho una parola che devo mantenere anche a costo di rimetterci dei quattrini, ma la reputation deriva anche dal fatto che io non spargo spazzature informatiche in giro per il mondo. Perché? Perché tante volte succede che le nostre aziende sottovalutano il rischio informatico, arriva chi usa i nostri sistemi per spargere porcherie nel mondo e dopo di che si dice, guarda, l'altra cime dice tanto, poi sta spargendo porcherie informatiche. Bene, la sicurezza informatica diventa quindi un elemento chiave per poter fare business nei prossimi anni. La sicurezza cosa vuol dire? Vuol dire tantissime cose. Vuol dire che non si possono chiaramente elencare come una lista della spesa, vanno anche queste analizzate, però c'è un concetto chiave secondo me che ci sta dietro. Gli imprenditori devono smettere di pensare di comprare prodotti per risolvere dei problemi. Oggi quando noi viaggiamo compriamo un biglietto. In aereo, in treno, qualunque cosa. C'è chi si occupa della sicurezza dell'aereo? Certo. Nella storia dell'aviazione, chi voleva volare all'inizio della storia dell'aviazione doveva saper fare tutto. Doveva sapere pilotare, avere la pista per decollare e atterrare, avere l'hangar, dover riporre l'aereo, saperne di meccanica per metterci un po' le mani. Oggi tutti compriamo un biglietto. La sicurezza informatica sta diventando sempre più questo. Security as a Service. Un biglietto da comprare. Guardate, questa cosa me l'ha insegnato soprattutto un cliente, che è l'unico cliente che cito nel mio piccolo libro, che si chiama Liu Jo. Noi per Liu Jo, in collaborazione con un team americano, seguiamo la sicurezza informatica di tutti i loro negozi e di tutto l'headquarter italiano. Loro mi hanno detto noi il business lo facciamo sul nostro software, sull'applicazione. L'infrastruttura per noi deve andare. Te ne devi occupare tu. Se poi non siamo contenti, ti cambiamo. Chiaro. Però, questo è un concetto secondo me vincente. Non siamo dei tuttologi. Non possiamo saper fare tutto. E oggi come oggi l'informatica è diventata comunque talmente complicata che, se noi continuiamo a pensare di poter fare tutto in casa, stiamo sbagliando, non centrando l'obiettivo. Perché? Perché la competenza che può avere una società come la mia, che lavora su 250 clienti, è chiaramente diversa da chi lavora su un unico cliente, che è come nuovamente ai sistemi informativi interni. Quindi, la sicurezza diventa un servizio da acquistare. Che poi, per far funzionare questa sicurezza, ci vogliono dei prodotti, è logico, è chiaro. Non bastano delle persone umane. Anche perché la persona ogni tanto deve andare a letto, ogni tanto va in vacanza, ogni tanto si ammala, come succede a tutti. E possiamo anche pensare di sostituirla, ma ci sono sempre persone più brave e meno brave. E qui ritorniamo nel discorso iniziale dell'umanità che avevamo fatto. In informatica, io dico sempre, tutti i prodotti hanno pregi e difetti. Non esiste il prodotto perfetto. La differenza la fanno le persone e come ci lavorano sopra. Ecco, ha maggior ragione nella security as a service, nella sicurezza come servizio della gestione del dato. Se io ho bisogno, per proteggere i tuoi dati, di metterci un certo prodotto, ce lo metterò nel canone che ti chiedo per poter gestire la sicurezza dei tuoi dati. Esce la nuova minaccia informatica e ti dico, guarda, bisognerà adeguare il canone perché è uscita la nuova minaccia e non ci avevamo pensato. È scoppiata la guerra, ahimè, voi sapete che la prima azione di guerra che è avvenuta la sera, la notte precedente all'invasione dell'Ucraina è stata la disattivazione dei satelliti via SAT, che sono quelli che monitorano lo spostamento delle truppe. Quindi oggi, e noi siamo in guerra, è inutile che ci illudiamo perché l'Italia è schierata e quindi l'Italia è attaccabile, le nostre aziende sono attaccabili, sono soggette ad attacchi da parte di pirati informatici nemici, tra virgolette. Io non ho nemici, però purtroppo ci sono persone che prima lo facevano per soldi, oggi lo fanno per teoria militare. Quindi la sicurezza, questa è una minaccia nuova, il che significa che magari dobbiamo dotarci di infrastrutture nuove, di prodotti nuovi che comportano un aumento del canone. I nostri biglietti aerei in questo momento sono aumentati rispetto a pre-pandemia, perché pre-pandemia si violava con 18 euro, si andava a Parigi. Adesso, col fatto che i voli sono più rarefatti, costano di più, c'è poco da fare. Non è che l'abbiamo deciso noi, è un trend di mercato. Quindi, riepilogando quello che è importante, in modo sicuramente sucinto, però chiaro che deve essere per tutti. I dati sono il patrimonio della nostra azienda, le persone fanno la differenza. Non lavorate mai con un call center, lavorate con delle persone che vi danno delle relazioni. Allo stesso tempo, vedete se le persone dall'altra parte ci mettono la faccia. Come avviene questo? Per tutti i nostri contratti, noi lavoriamo sempre in modalità flat. Non lavoriamo mai, e siamo una chimera in informatica, non lavoriamo mai time and material. Quindi, i clienti pagano un canone fisso tutti gli anni. Ed è sempre tutto compreso. Che se bisogna fare un intervento o 50 interventi, il prezzo è quello. Il cliente ha un prezzo certo, io ho un'entrata certa, ma si crea una relazione di tipo win-win, vinco io e vinci tu. Se io lavoro bene, tu hai meno casino, ma allo stesso tempo io ci guadagno di più, perché devo fare meno interventi. Ecco un modo in cui si capisce che le persone mettono la persona al centro, che le aziende mettono la persona al centro. Cioè il fatto che creano una relazione dove insieme si scommette sulla cosa. Il secondo elemento, detto questa etica generale, questa filosofia generale che noi portiamo avanti e cerchiamo di portare avanti, pur essendo esseri umani e potendo sbagliare come tutti, perché questo non bisogna mai auto-incensarsi troppo. Nel senso che se si mantiene l'umanità si mantiene anche la possibilità di sbagliare. Allo stesso tempo ci sono alcuni tasselli chiavi che sono business continuity, disaster recovery e security dei dati, perché questi sono quelli che ci permettono di andare avanti e di fare business nei prossimi anni, conservando la reputation.